Un consiglio comunale straordinario per chiarire i passaggi che hanno portato all'avvicendamento in giunta la convocazione delle commissioni sugli affari sociali e sull'ospedale le dimissioni degli assessori Nicola Angelucci e Stefano Mariani dopo la vicenda legata alla finanziaria 2018 e l'azzeramento della giunta comunale con la formazione di un esecutivo di salute pubblica sono alcune delle richieste formulate in conferenza stampa dei consiglieri di minoranza Elisabetta Bianchi, Maurizio Balassone, Fabio Ranalli, Antonio Di Rienzo e Francesco Berrotta che non ce la fanno arrestare a guardare l'evoluzione politico-amministrativa della maggioranza di Palazzo San Francesco l'ultima commissione convocata è quella che ha preceduto il Consiglio del 22 dicembre fatta eccezione di quella specifica per il ricorso SNAM intervengono i cinque consiglieri di opposizione che si aspettano dei segnali precisi dalla maggioranza non sappiamo dove il sindaco voglia portare questa città anche in riferimento al voto del 4 marzo interviene la consigliere Elisabetta Bianchi La città ha bisogno di risposte, siamo noi a sollecitarle con la convocazione di un consiglio comunale stiamo per approntarne la relativa richiesta, la città non può andare più avanti così la maggioranza deve dare risposte e imprimere un passo diverso alla sua amministrazione Fabio Ranalli chiede le dimissioni di Angelucce e Mariani se non sono stati richiesti i finanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici la responsabilità degli assessori che hanno seguito i corsi specifici e la vicenda incalza Ranalli mentre il capogruppo PD Antonio Di Rienzo esclude accordi trasversali sulla nomina di Antonio Angelone noi come gruppo PD siamo all'opposizione conclude e rilancia la proposta di un'aggiunta di salute pubblica a patto che si azzeri l'esecutivo in carica e subentrino cinque elementi al di sopra delle parti l'avevo proposta a giugno perché già avevo sentito avevo avvertito queste difficoltà oggettive dell'aggiunta certo si può fare ma questo prevede dei passaggi politici chiari trasparenti come per esempio le dimissioni in toto dei cinque assessori dell'aggiunta e portare in giunta persone della nostra città a cui noi riconosciamo delle valenze e delle forti competenze rispetto ai ruoli con cui si vuole notare grazie a tutti grazie a tutti